buongiorno a tutti sono una località si chiama lago sinizzo a pochissimi chilometri da casa mia un paesino vicino l'aquila 15 chilometri dall'aquila paesino chiamato san demetrio nevestini e qui a san demetrio c'è questo bellissimo lago dove veniamo a fare il bagno e vi assicuro che è un posto meraviglioso volete passare qualche giornata qui con la vostra famiglia c'è anche un'area camper attrezzata ma ci sono anche dei bei hotel nelle vicinanze dove poter soggiornare un altro posto bellissimo sempre un paio di chilometri da qui sono le grotte di stiffe vi consiglio anche queste di prenderle in considerazione per un vostro viaggio in Abruzzo bene io ringrazio daniela benedetto di avermi nominato una grande opportunità che mi ha dato una cara amica oltre che una bravissima collega e questo posto per me è molto caro io vivo a san demetrio da qualche anno e diciamo rivalutato molto questo posto soprattutto durante il covid perché qui c'è aria prettamente pulita non c'è molta affluenza di persone per cui diciamo si sta si sta veramente veramente bene e quindi io qui vengo durante il lockdown sono venuto spesso a lavorare ma anche in questo periodo diciamo lavoro da qui per esempio questa mattina lunedì mattina diciamo invece di andare in ufficio ho preferito stare qui a lavorare e fra un po' poi mi raggiungerà mia moglie con la bambina diciamo la bambina giocherà qui c'è un parco giochi io più tardi farò un bagno perché questo laghetto è anche balneabile e passeremo la giornata la giornata qui tutto questo ovviamente grazie a questo meraviglioso strumento che è condomani che ci consente semplicemente avendo una connessione internet di poter fare tutto per esempio questa mattina io in programma di gestire un paio di segnalazioni di intervento e quindi di rapportare ai condomini quello che è stato fatto e di pagare fornitori prima delle vacanze estive mi vorrei soffermare su questo punto perché in passato il pagamento dei fornitori mi portava via tantissimo tempo ed era diventato quasi uno stress e addirittura avevamo pensato in un momento di mettere una persona soltanto a fare il pagamento dei fornitori poi il buon il buon Antonio e condomani hanno pensato bene di sviluppare una funzione che è fisco che è fisco che permette di gestire i pagamenti in pochissimi click per cui io questa mattina dovrò gestire circa 40 bonifici e diciamo grazie al nuovo programma alle nuove funzioni di condomani riuscirò a gestire questi circa 40 bonifici in circa 10 minuti di lavoro e questo mi permette ovviamente uno di fare contenti i miei fornitori perché possono ricevere pagamenti ben ben diciamo diciamo strutturati no diciamo concordati e loro sanno che a 10 del mese o il 20 del mese o due volte al mese io faccio regolarmente i pagamenti questo prima non era possibile e permette a me di stare tranquillo di non trovarmi affogato nel lavoro e soprattutto permette di avere più tempo libero quindi diciamo questa funzione molto importante perché ci consente non solo di lavorare bene ma di avere molto più tempo molto più tempo per noi e niente diciamo questa è la mia testimonianza sul metodo di condomani grazie ancora a daniela benedetto per avermi nominato ripeto è stata una grande opportunità io vi saluto dal lago di sinizzo in abruzzo in provincia dell'aquila vi ricordo anche le grotte di stiff e se venite da queste parti mandatemi un messaggio fatevi una telefonata e passeremo un po di tempo insieme mi farebbe veramente piacere per quanto riguarda le nomine nomino giovanni trapuzzano che è in un bellissimo posto che mi farebbe piacere che ci illustrasse ci facesse vedere il mio socio marco franceschini e la mia carissima cugina carolina cesareo grazie a tutti ciao buona giornata e buona estate